ciao amici di read ball siamo io il buon par nostro la nostra new entry matteo ciao a tutti siamo stati qui a milano ospiti di asus al punto next qui di via procaccini per la presentazione dell'asus rog gx 700 un notebook tra virgolette quindi un portatile esatto da gaming che rappresenta assolutamente il top di gamma in questo momento per quanto riguarda i notebook i laptop da gaming per una caratteristica fondamentale che è appunto il sistema di raffreddamento a liquido il sistema di raffreddamento diciamo una caratteristica più unica che rara è in assoluto il primo portatile disponibile in commercio e da oggi anche disponibile in italia vi ricordiamo con un sistema di raffreddamento a liquido come funziona anzitutto esiste una dock station venduta insieme al prodotto che potremmo sfruttare appunto per ingaggiare un overclocking aggressivo infatti grazie a questa semplice dock station dalle dimensioni diciamo notevoli al contrario del portatile che invece ha uno spessore non elevato un peso abbastanza non è elevatissimo a livello di dimensioni abbiamo visto portatili da gaming dalle dimensioni decisamente più massicce esatto come vi dicevo il sistema di raffreddamento consente di mantenere temperature fino addirittura al 33 per cento inferiore rispetto alla norma sia per quanto riguarda la cpu quindi processore e la gpu la scheda grafica quindi possiamo elevare la frequenza fino a del processore intel i7 di è disponibile all'interno di questo prodotto fino a 3.6 gigahertz che per un notebook è assolutamente tantissimo specialmente per i requisiti richiesti nel gaming di oggi assolutamente naturalmente stiamo parlando di top per quanto riguarda le performance sia per quanto riguarda appunto le performance pure nell'utilizzo sia per quanto riguarda le componenti al suo interno infatti stiamo parlando di un notebook che monta al suo interno una scheda grafica in versione desktop si esatto di tutto rispetto tra l'altro perché stiamo parlando di una 980 una gtx nvidia 980 esatto in questo momento forse non il top di gamma in quanto come ultima uscita però sicuramente che riesce a garantire un utilizzo da alle altissime performance con qualsiasi tipo di produzione di gioco degli ultimi mesi diciamo delle ultime uscite con un hardware del genere di sicuro non avrete problemi di specifiche tecniche per un po diciamo assolutamente anche per quanto riguarda il livello visivo stiamo parlando di un signor di un signor notebook infatti parliamo comunque di uno schermo a risoluzione 4k che quindi riuscirà a spingere ai massimi livelli grafici tutti tutti gli ultimi giochi e naturalmente stiamo parlando però di un oggetto estremamente esclusivo un oggetto che è stato lanciato oggi ufficialmente in italia e che sarà acquistabile solamente presso next grazie a questa partnership con la divisione rog di asus perché è così esclusivo perché appunto è per festeggiare i dieci anni dell'uscita di rog sul mercato dalla nascita del brand sono passati dieci anni per festeggiare hanno deciso di fare questa tiratura limitata di un prodotto veramente mirato a un pubblico esclusivo che richiede un notebook delle dimensioni non troppo grandi non troppo piccoli infatti parliamo pur sempre di un 17 pollici lo schermo eccezionale però le dimensioni sono tutto sommato contenute e l'uso anche al di fuori del gaming senza essere usato in contemporanea con la dock station è comunque fattibile la durata della batteria purtroppo non c'è stata dichiarata quello è un attimino un punto da vedere possiamo capirli perché comunque stiamo parlando di un pc che può essere più facile per un trasporto ma non assolutamente di un pc da utilizzare no no non è stato concepito con queste intenzioni anzi è in grado di farlo però è chiaro guardando l'hardware presente sia la gpu che la ram che il processore che questo è un laptop che può essere usato in giro non è costruito per essere usato esclusivamente fuori casa esatto perché quando parliamo appunto della dell'apparato per il raffreddamento a liquido parliamo comunque di un elemento abbastanza importante nelle dimensioni che non può assolutamente consentire un utilizzo in viaggio ad esempio se pensate a tirare fuori dalla vostra valigetta questo non ornita esatto perché sarà inclusa nella confezione appunto questa valigetta che nient'altro è che un trolley perché di queste dimensioni sarà necessario per trasportare tutto questo pc esclusivo esclusivo assolutamente perché da oggi saranno messi in commercio unicamente 12 esemplari dell'asus rog gx 700 ad un prezzo allo stesso modo esclusivo infatti stiamo parlando di 5.499 euro tutto incluso per l'amor del cielo però comunque questo comunque rappresenta il grado di esclusività che vuole dare asus a questo progetto un progetto che naturalmente non si ferma con questo gx 700 ma che rappresenta un punto di partenza per poter lavorare ancora su questa tecnologia nascente appunto sul riuscire a portare il raffreddamento a liquido anche su notebook su computer portattili chiaramente hanno affermato che gx 700 potrebbe essere un primo passo nella direzione del gaming a raffreddamento a liquido anche all'interno della stessa asus chiaramente però non ci si può che aspettare anche una risposta dalla parte dei competitor in questo settore assolutamente la guerra è ancora molto forte per stabilire il brand dominante quindi di sicuro non si lascia non scappare l'occasione di proporre una loro versione di raffreddamento a liquido per laptop bene queste erano le nostre impressioni sulla presentazione sul lancio dell'asus rog gx 700 per tutti gli approfondimenti per tutte le informazioni anche tecniche noi vi rimandiamo alla nostra notizia sull'evento di oggi punto sull'evento di lancio di cui potete trovare il link qui in basso in descrizione naturalmente iscrivetevi al nostro canale se vi è piaciuto il video se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre novità iscrivetevi al nostro canale seguiteci naturalmente sui nostri canali social commentate qui sotto che risponderemo a ogni vostro dubbio nel caso vogliate far parte di questa famiglia di 12 utenti ma certo ma certo se siete uno dei 12 avvertiteci che magari andiamo insieme a comprarlo e vi accompagniamo volentieri va bene non ci resta che salutarci dal buon parra e dal buon Matteo un salutone a tutti e alla prossima ciao